ciao niente parete blu ben trovata ben trovato oggi trasmetto da un'altra stanza è una storia lunga come lungo questo video perché se ti dico il numero delle volte ma lasciamo perdere dovrei saperla bene quindi ci possono distrarre solo eventualmente delle interferenze esterne che potrebbero arrivare in qualsiasi momento di che cosa parliamo di colloquio e di quella domanda fatidica su cui molti incespicano scivolano inciampano o si bloccano non tutti però ecco non c'è una categoria e non è una questione di livello di managerialità di studi o che è proprio la dimestichezza che sia a parlare di se stessi quindi oggi parliamo di quando il discorso passa da aspetti tecnici o professionali di esperienza di competenza di conoscenze ad aspetti personali perché tutti poi vogliono essere valutati per la persona che sono ed è una cosa anzi molto richiesta no guardami oltre il curriculum perfetto sono qui a guardarti raccontati panico e le risposte che arrivano a quella fatidica domanda del mi parli di lei che poi può essere indeclinata ai vari modi ma sa che è una bella domanda ci avevo mai pensato oppure difficile questa domanda però o anche sa dovrebbe chiederlo a chi mi conosce e glielo direbbero è come sono c'è un problema però non è che io posso chiamare il tuo partner o la tua partner per capire se sei se metti in ordine i tuoi amici per capire se sei simpatico o simpatico e i tuoi colleghi per capire quanto efficiente sei nel lavoro ci sei tu e me lo devi raccontare tu poi io ci vido sopra so che non è facile e quindi oggi non ti posso dare tecniche perché non c'è una tecnica migliore per per presentarsi ok c'è un modo per prepararsi questo sì perché quello che ci manca è un vocabolario e un po di autoconsapevolezza e la capacità di mettere insieme le due cose in una descrizione che non sia la lista della spesa di aggettivi che fanno emergere tutti come il partner o la parte nell'ideale no che poi non è possibile perché non puoi essere preciso veloce organizzato pianificatore ma anche spontaneo non è possibile non ci credo bom e come punti di miglioramento essere troppo sensibile o testarda perché questi sono le due che vanno è la sensibilità e la testardaggine vincono su tutti come difetti perché poi sono dei falsi difetti no ma cosa vuol dire testato è nome perché non mollo mai io non mi stai dicendo un difetto poi vabbè uso la parola difetto ma sappiamo benissimo che non non ci sono i difetti no comunque allora non ti posso dare delle tecniche per presentarti ti posso aiutare a prepararti perché ci sono dei modi per prepararsi il concetto è avere consapevolezza di sé e come ho consapevolezza di me non non è necessario in analisi ok a volte basta molto semplicemente osservarsi ma fare attenzione quindi alzarsi un po in volo guardarsi dall'alto guardare osservare e un po interpretare il modo con cui si affrontano le situazioni quindi dirà guarda mi è successa quella cosa lì ho reagito in quel modo lì perché poi non è ad ogni evento si reagisce in un modo il modo con cui noi reagiamo ad un evento non è unico una persona diversa da noi reagirebbe in maniera diversa ecco che quindi notare io ho reagito così l'altra persona reagito in un altro modo questo evidenza il fatto che io magari sono più impulsivo oppure capisco che di fronte a determinate situazioni metto in atto più facilmente di altri la diplomazia lo capisco di più facendo il confronto con gli altri piuttosto che dandomi un valore assoluto no per cui mi osservo e osserva anche gli altri per capire rispetto agli altri qual è la mia indole sono più impulsivo sono più diplomatico oppure sono più avventato sono più riflessivo ho bisogno di pensare di più ho bisogno di lavorare da solo il mio collega lavora con tutti io invece c'è no lasciatemi in pace ma allora forse ho bisogno di concentrarmi avendo spazi di silenzio e anche magari di solitudine perché poi non è la lista degli aggettivi quella che ci aspettiamo insomma quando facciamo queste domande non più insomma siamo evoluti anche noi ci interessa capire come 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 ti comporti che tipo di comportamenti metti metti in atto più facilmente e quindi ti può aiutare anche oltre all'osservazione di te anche proprio il farti delle domande le domande aiutano sempre ma non non a mente farti delle domande e scrivere le risposte perché farsi delle domande e rispondere a mente che vuol dire penso la risposta ma il nostro cervello è una scimmia salta di palo in frasca quindi tu i primi tre secondi stai pensando di rispondere a quella domanda ma il pensiero innesca altri pensieri improvvisamente non ci sei più è difficilissimo davvero pensare di fare vera auto consapevolezza riflettendo su di sé per cui ho una cosa concreta come osservo dei comportamenti o un'altra cosa concreta come scrivo faccio delle domande e rispondo per iscritto rispondere per iscritto richiede di concentrarsi e di essere focalizzati le domande possono essere le più varie quali sono i miei valori per cosa non farei mai dei compromessi che cos'è prioritario nella mia vita addirittura si può fare la torta e mettere gli spicchi con la grandezza relativa all'importanza quali sono i comportamenti degli altri che mi mettono a disagio quali sono le mie paure che cosa mi fa paura quali sono le situazioni in cui do il meglio di me ecco che farsi queste domande non tutte farsi un po di domande scrivere per iscritto puoi fare una bella linea sotto e cominciare a trarre delle conclusioni in maniera molto fai da te se vuoi ma ti assicuro che l'esercizio scritto è rivelatore ed è anche molto forte molto potente questo ce ne insegna anche la scrittura autobiografica di cui non sono un'esperta ma insomma conosco la grande efficacia per cui questi sono i primi due suggerimenti il suggerimento zero è non rispondere mai con che domanda difficile perché sono altre le domande difficili non può essere questa e neanche con non ci avevo mai pensato perché a colloquio si va sapendo che si tratterà anche il tema te come persona c'è un ultimo suggerimento che ti voglio dare a cui io tengo tantissimo perché è proprio forte per aumentare la consapevolezza di te e quindi poi anche la capacità di raccontarti ed è la ricerca del feedback perché noi abbiamo una nostra consapevolezza che possiamo anche arricchire attraverso questi due esercizi che ti ho in qualche modo raccontato ma c'è una parte di noi che non vediamo ok lasciamo stare l'inconscio che non la vediamo noi e non la vedono neanche gli altri ed eventualmente deve entrare in campo un professionista ma c'è proprio una parte di noi che emerge che che c'è che si manifesta attraverso i comportamenti e che dice qualcosa di come siamo ma lo dice agli altri e noi in qualche modo non abbiamo vera consapevolezza di che cosa stiamo trasmettendo per cui c'è qualcosa che sanno agli altri e che noi non sappiamo e basta chiederglielo quindi hai ragione quando mi dici no ma dovrebbe chiederlo a chi mi conosce il problema è che non glielo devo chiedere io glielo devi chiedere tu glielo devi chiedere tu e poi metterlo insieme con ciò che tu già sai di te intanto prima cosa questo ti davvero ti aiuterà a conoscerti meglio e ti aiuterà nelle relazioni nel lavoro nella vita di tutti i giorni perché più siamo consapevoli di noi stessi più è ampia la consapevolezza di noi stessi più tutto si semplifica e poi appunto aggiungerà materiale da mettere sul campo quando sul tavolo scusami quando sarai a colloquio per cui questo è un ulteriore suggerimento chiaro non si chiede solo alle persone a cui noi stiamo molto simpatici o alla mamma o al papà che cuore di mamma insomma poi ci sono anche le mamme critiche no il concetto è chiedo a chi entra in contatto con me simpatico antipatico bene anche l'antipatico o bene la persona questo antipatica mi interessa un feedback sincero in realtà poi mi interessano tanti feedback perché ognuno al proprio punto di vista quindi non è mai il feedback oggettivo arriva da una persona sarà sempre soggettivo ed è per questo che insomma più ne chiedo e più poi riesco magari a individuare dei tratti comuni perché più di qualcuno mi dice la stessa cosa allora allora guarda non pensavo però effettivamente è così chiaro che poi bisogna anche trovare chi dall'altra parte è disposto a darti un feedback insomma di un certo peso e non e non ti liquida con risposte di cortesia però ecco quando si riesce a innescare questo meccanismo è potente ed è utilissimo nella vita personale professionale e anche in fase di ricerca di lavoro quando a colloquio si si tratta di raccontarsi basta questa volta dovrebbe essere andata nei prossimi giorni torniamo dietro la parete blu io ti auguro un buonissimo weekend grazie per chi mi scrive insomma con con dei consigli o con degli apprezzamenti davvero grazie a me piace moltissimo fare questa cosa per cui datemi dei feedback ecco datemi dei feedback positivi o negativi quelli negativi mi aiutano a fare meglio per cui liberamente grazie buona serata e buon weekend